amici di youtube buonasera a tutti voi amici allora amici ci dedichiamo mi sono ripreso dall'influenza ma cosa ci dedichiamo a 10 all'8 ogni 5 minuti per questa sera dalle ore 18 e 10 questo video viene pubblicato alle ore 18 che si gioca a 10 all'8 ogni 5 minuti dalle ore 18 e 10 potete giocare anche da casa vostra chi ha il conto gioco evitate di scendere ai tabaccai amici perché non si deve rischiare con questo con una virus che amici allora mi faccio vedere i numeri da giocare dalle ore 18 e 10 fino alle 18 e 55 si portano avanti con conto gioco amici io questa diretta questa è una diretta amici la sto facendo su facebook sulla mia pagina poi la scarico e viene pubblicata su youtube dalle ore 18 allo che mi segue su facebook che la sto facendo molto prima questi numeri non si devono giocare adesso si devono giocare dalle 18 in poi 18 e 10 poi viene pubblicata alle ore 18 alle 18 e 55 ok 10 all'8 ogni 5 minuti ok buona fortuna si gioca 55 e 73 lampo e poi l'estatto 73 ok buona fortuna a tutti voi dalle ore 18 di e si comincia a giocare fino alle ore 18 e 55 sono 10 15 20 25 30 35 40 45 55 sono dieci colpi di gioco amici dieci colpi di gioco questi qua 55 e 73 e 73 l'estatto come ricupero spese si gioca a 5 dalle ore 18 in primis a dalle ore 18 si gioca no 18 e 10 che il video viene pubblicato alle 18 su youtube alle 18 e 10 si mette in gioco no dalle 18 e 5 dalle 18 e 10 fino alle 18 e 55 devo essere chiaro 55 73 e poi 73 e poi 73 l'estatto ricordo 18 viene pubblicato il video e alle 18 e 10 si comincia a giocare e fino alle 18 e 55 a 10 all'8 ogni 5 minuti 55 73 e l'estatto 73 eccoci qua ritorniamo su di me amici amici buona fortuna tutti voi e che dire forza 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 non uscire da casa si può giocare anche con il conto gioco ho linee da pc seduti comodi chi ha il conto gioco a 10 all'8 ogni 5 minuti può giocare anche all'8 tutto chi ha il conto gioco può giocare anche da casa si fa la schiettina si fa la schiettina si fa la puntatina e aspetta e dice all'8 se lo possono guardare come fosse che stanno in tabacchino invece se lo possono vedere anche dal computer ok perfetto l'unica cosa buona che ha fatto lo stato ha fatto questo perché si può giocare anche da casa magari una cosa buona l'ha fatta il governo non possiamo criticare il governo perché il governo fa sempre cose buone per noi amici amici che dire buona fortuna a tutti voi e forza 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 curano la virus lo sconfiggeremo morirà di questo brutto mostro e ritorneremo più forti ma più forti di prima ok ma noi siamo più forti del coronavirus non ci abbatte facciamo poi tutti i giorni minimo un minuto di silenzio per le persone care che sono morte a nord a sud pure stanno amarendo per colpa del coronavirus allora portiamo rispetto portiamo rispetto a tutte quelle persone vittime del coronavirus ok facciamo sempre un minuto di silenzio e l'opportunità ce l'abbiamo perché siamo tutti i giorni a casa preghiamo preghiamo molto quando ci mettiamo a tavola per mangiare non facciamo i fatti nostri facciamo una bella preghiera e poi che facciamo una bella preghiera che facciamo una bella preghiera si mangia preghiamo molto a dio e poi si mangia a tavola pure la sera mattina pomeriggio a ogni ora preghiamo molto che questo coronavirus finirà buona fortuna vi faccio le ultime volte i numeri ecco qua vi faccio vedere chi non l'ha visti 55,73 70 l'estratto dalle ore 18 e 10 fino a 18 e 55 ciao 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 e buona fortuna ciao